I grandi gruppi internazionali continuano a puntare sulla Toscana. Nelle immagini vedete l'inaugurazione di Borgo alle Vigne, il primo e unico resort in Italia di Hilton Grand Vacation, creato nel verde della campagna di Terricciola in provincia di Pisa. Un investimento da 10 milioni di euro che ha richiesto 4 anni di lavoro fra pianificazione e costruzione, con il coinvolgimento di 250 operatori e 60 imprese locali. A realizzarlo la società di origine pratese Prime Investimenti con Hilton Grand Vacation e Best International. C'è stata una fase di studio molto attenta prima di partire per realizzare questo complesso. Piano piano abbiamo incontrato dei buoni partner che ci hanno accompagnato, quindi come Hilton Grand Vacation, come Best International. Spero che c'è la volontà, quindi non la speranza, c'è la volontà in futuro di ampliare questo impianto, quindi di crearne anche altri ed è stata un'operazione abbastanza unica nel suo genere. Borgo alle Vigne comprende una casa padronale, ville circondate da giardini e una grande piscina all'aperto. Gli appartamenti hanno interni di fattura italiana con materiali colori che vanno incontro al gusto internazionale. Un luogo consacrato al relax che si rivolge al turismo residenziale di lusso, interessato a conoscere le meraviglie toscane soggiornando in strutture alternative e grandi alberghi. Per il turista questa deve essere la sua casa lontano da casa, un luogo perfetto in cui godere di tutti i comfort offerti da Hilton e apprezzare non solo le bellezze che si trovano attorno a Terricciola, ma anche quelle delle grandi città toscane come Firenze, Pisa e Siena. Nelle prime settimane di apertura Borgo alle Vigne è già stato scelto da più di 1200 turisti provenienti da tutto il mondo.